Il progetto Sentinelle del mare è un progetto dell'Università di Bologna nato nel laboratorio di biologia varina e pesca di Fano e ha lo scopo di monitorare la biodiversità marina del mar Mediterraneo attraverso il metodo della Citizen Science, ovvero il coinvolgimento dei turisti nella raccolta dati sugli organismi marini attraverso la compilazione di un questionario. Nell'ultimo anno è stata inserita anche una parte relativa alle microplastiche per aumentare la sensibilizzazione nei cittadini riguardo a questo tema così attuale. Parti con noi a bordo di Dream One, un'esperienza unica assieme a biologi marini qualificati per contribuire al progetto scientifico che monitora l'impatto delle plastiche in mare. Participa anche tu alla salvaguardia dell'ambiente e prenota il tuo tour esclusivo. Facciamo la scelta giusta, scegliamo il pianeta.